Ciao a tutti, ricomincia finalmente Palos System Academy dopo un paio di mesi ripartiamo dalla robotica per la secondaria con il progetto HBRT che è questo, che è un robottino che ho fatto io l'anno scorso e adesso durante questo video vi mostrerò come funziona e come è stato programmato Ok, eccoci, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Palos System Academy cominciamo subito dai libri che ho usato come riferimento per questo progetto di Robot che apprende da solo, di HBRT, How to be a robot trainer Allora, sono andato un po' alla ricerca di libri che affrontassero ovviamente il tema dell'intelligenza artificiale e del machine learning, quindi dell'apprendimento automatizzato libri che però, diciamo, fossero, come dire, contestualizzati dal punto di vista tecnologico rispetto alle piattaforme microcontrollori, ok, quindi o Arduino o Raspberry o simili non libri dedicati all'intelligenza artificiale in senso più ampio, ok, che chiaramente non erano poi applicabili rispetto alla possibilità, che non erano poi utilizzabili rispetto alla necessità di costruire un robot do-it-yourself in qualche modo quindi il primo libro che ho preso è questo Artificial Intelligence di questo editore qui è l'Hector e è un libro che, come dice proprio nel sottotitolo 23 progetti per, come dire, dare vita al tuo microcontrollore è molto interessante, non è basato su Arduino, è basato su un altro tipo di microcontrollore più o meno, diciamo, simile dal punto di vista hardware però, al di là dell'aspetto del codice, che non mi preoccupava tanto la questione di scrivere codice per Arduino ciò che mi preoccupava un po' era avere proprio un modello di riferimento di come dovevo costruirlo il programma quindi non tanto rigo per rigo, ma proprio capire cosa deve fare un programma per dare al robottino una, diciamo, un'apparenza di comportamento intelligente quindi questo è il primo libro che vi consiglio, lo trovate anche su Amazon il secondo libro più recente di questo ma che lo cita molto e infatti alcuni capitoli sono proprio uguali è quest'altro Beginning Artificial Intelligence with Raspberry Pi questo, diciamo, in gran parte è un adattamento di quello che vi ho mostrato in precedenza però qui c'è codice proprio per il Raspberry Pi ora nel robottino, come vi mostrerò più avanti in un video, nel robottino io ho usato un Arduino Nano quindi in realtà questo codice per Raspberry non l'ho poi utilizzato insomma, non ho utilizzato gli esempi però mi sono sempre, ho fatto sempre riferimento ai modelli per capire come dovevo costruire il codice fra i due libri vi consiglio di partire, se lavorate su Arduino, di partire da questo ok, se invece volete cimentarvi su piattaforma Raspberry allora chiaramente partite da questo in particolare di questo primo libro, ne parleremo più avanti ho consultato i capitoli che, diciamo, ci sono vari progetti dove vengono spiegati vari modelli di codice per simulare, diciamo, dei comportamenti apparentemente intelligenti del nostro robot o del nostro microcontrollore in particolare mi sono soffermato sul capitolo che riguarda la roulette wheel brain e lo vedremo più avanti una figura e vi spiegherò come ho usato queste informazioni il capitolo che riguarda le reti neurali di Hopfield quindi un pochino la parte di reinforcement machine learning quindi apprendimento automatizzato con rinforzo e l'ultimo capitolo, il penultimo, che trovate anche nell'altro libro proprio pari pari è quello che si chiama architettura a sussunzione oppure robotica basata sui comportamenti behavior based robotics ho usato un pochino, ho fatto un mix tra le informazioni di questi tre capitoli ma cominciamo e dato che stiamo parlando comunque di un progetto di robotica DIY di robotica fai da te cercherò di scomporre un po' l'esposizione sui tre classici domini che ho sempre affrontato nei miei video, nei miei corsi o nei miei webinar sulla robotica DIY i tre domini sono stampa 3D, elettronica e codice ok, due parole sulla stampa due parole sulla ok, eccoci qui due parole sulla stampa 3D come vedete, come già con eduino il robot è stato interamente stampato in 3D tra l'altro è possibile stamparlo per come è stato, diciamo, progettato è possibile stamparlo anche con una stampante piuttosto piccola come la Sherbot Kiwi quindi insomma una stampante che abbia un piatto anche di 10 cm per 12 o 12 per 10 sarebbe meglio dire perché prima si dice la X e poi la Y quindi diciamo la cavate anche con una stampante piccola e non tutti i pezzi sono stati modellati con Tinkercad in particolare con Tinkercad ho modellato tutte le parti interne diciamo meccaniche squadrate come potete vedere da questo screenshot mentre le parti diciamo curve quindi il frontalino, le ruote e il dorso sono state modellate con Rino non da me ma da un modellatore esterno che ha collaborato con noi in questo progetto ciò non toglie che con un po' magari ottenendo un risultato estetico minore perché come sapete su Tinkercad come abbiamo detto in vari video non è così semplice cioè è abbastanza facile ottenere forme meccaniche forme squadrate insomma per la meccanica più difficile ottenere forme organiche curve perché ci sono proprio pochi parametri da poter controllare comodamente ciò non toglie che insomma uno poi possa ottenere comunque un risultato funzionale anche con Tinkercad forse le ruote uno ce la può fare a farle con Tinkercad ok ora diciamo queste erano proprio due parole sulla stampa 3D andrei avanti con l'elettronica come di consueto così come avviene con Eduino alimentiamo i nostri robottini con batterie ricaricabili da 2400-2450 mAh qui vedete proprio il numero 2450 vi consiglio queste batterie dell'IKEA che usiamo anche nei nostri laboratori dal vivo perché costano poco e sono ottime usiamo batterie da 2450 mAh uno perché durano di più diciamo la carica dura di più e poi perché comunque per muovere dei servomotori ci vuole un pochino più di potenza rispetto alle batterie standard che trovate alle casse di tutti i supermercati ok comunque al di là di prendere le batterie di comprare le batterie che potete le trovate anche su Amazon le batterie da 2400-2450 mAh ora MAH ora ho visto sono abbastanza si trovano facilmente anche nei negozi un pochino più specializzati magari sul bricolage comunque su Amazon le trovate senza problemi tant'è che le trovate persino all'IKEA che non è un negozio specializzato ovviamente e andiamo avanti sull'elettronica come ho già detto nella precedente foto usiamo dei servomotori essendo un robot chi ha visto una mia formazione dal vivo o chi ha già seguito altri miei webinar, video o chi mi ha già conosciuto attraverso altri canali sa quante volte mi è capitato di spiegare il funzionamento dei servomotori che di solito usiamo su eduino che è il robottino ragno esapode a sei zampe dove insomma spiego un pochino che i servomotori che ruotano da 0 a 180 servono per simulare riprodurre il movimento delle articolazioni siano esse articolazioni umane oppure animali per il semplice fatto che le articolazioni non girano a 360 di solito insomma ora se c'è qualche eccezione scrivetemelo nei commenti o mandatemi una mail diciamo le articolazioni non girano a 360 gradi come una ruota e quindi per i robottini con le ruote non si usano i servomotori 0 a 180 ovviamente ma si usano di solito i motori quelli gialli che si chiamano DC Motors in corrente continua quelli che ci sono sull'embot per fare un esempio magari abbastanza conosciuto in questo caso non ho usato i DC Motors per un semplice motivo che per usare i DC Motors avrei dovuto aggiungere uno strato di elettronica qua su nella scheda avrei dovuto aggiungere uno shield un'altra scheda che serve per costruire o meglio per avere a disposizione quel circuito che si chiama ponte H che serve per gestire il verso di rotazione dei motori e invece ho usato dei più comodi servomotori a 360 gradi che sono una sottocategoria dei servomotori un pochino più costosi ma non tanto insomma costano un paio di euro di più di quelli tradizionali 0 a 180 gradi e la cosa comoda dei servomotori è che li collego direttamente alla scheda senza dover disporre di questo ponte H e posso regolare semplicemente il loro verso di rotazione semplicemente dal codice così come si fa con i normali servomotori quindi perché ho usato i servomotori? perché mi risparmiano un po' di spazio nell'hardware e nell'elettronica di contro hanno lo svantaggio di essere probabilmente un po' più costosi un po' più delicati dei motori in corrente continua e in questo caso poi lo vedrete nel video in questo caso dato i motori che i motori non sono stati acquistati perfettamente tarati in coppia ci possono essere delle lievi differenze di velocità tra l'uno e l'altro e che quindi non sia sempre semplicissimo come dire andare perfettamente su una linea retta il nostro robot ma questo in realtà è un problema che c'è anche con i motori in corrente continua ma chi di voi magari ha visto il B-Bot o anche l'M-Bot eccetera insomma a volte non è che vanno perfettamente dritti ok? perché una ruota semplicemente magari gira un filo più veloce di quell'altra e quindi poi genera una rotazione lieve del robot altra elettronica che c'è è abbastanza facile da riconoscere per chi di voi magari ha visto gli altri video o webinar su robotica DIY o su Arduino l'altra elettronica che c'è è una scheda Arduino Nano in questo caso che è questa rossa non è la versione diciamo originale vedete il colore rosso è un clone che è stata inserita in quest'altra base per chi non lo sapesse Arduino varie schede Arduino possono essere in qualche modo integrate con delle schede aggiuntive che si chiamano SHIELD queste schede aggiuntive che cosa portano? che cosa ci danno? o dei circuiti extra come il ponte H appunto che dicevo prima per i motori in corrente continua o in questo caso ci facilitano la gestione di servomotori oppure di sensori perché è già predisposta la scheda SHIELD come vedete qui dove sto indicando con il puntatore del mouse è già predisposta con delle prese con degli ingressi diciamo a tre poli che mi permettono di collegare in maniera più semplice senza dover usare un sacco di prolunghi o di fili i servomotori e anche i sensori infrarossi che escono tutti con tre poli i tre poli che cosa hanno? il polo positivo il più il polo negativo e il terzo polo è il polo che invia che invia o riceve un segnale dalla scheda ok? quindi semplicemente la scheda lo SHIELD mi aiuta nelle connessioni mi fa risparmiare spazio e mi fa risparmiare i cavi però nel senso se uno riprogettasse il robot magari per ospitare l'arduino 1 che è più grande dell'arduino nano potrebbe anche farne a meno ovviamente dovrebbe riprogettare tutto l'aspetto insomma hardware per lasciare spazio alla scheda e alle connessioni chiaramente il robot è dotato dei famosi occhietti che è un sensore a ultrasuoni in questo caso non ho usato il solito HC05 su cui ho fatto anche un webinar l'anno scorso ma ho usato il Groove che costa un filo di più ha delle prestazioni un po' migliori e ho usato sul dorso un pulsantone da quelli che si chiamano arcade button che sono i pulsantoni da videogiochi però qui non lo vedete perché il dorso è smontato e c'è un buzzer quindi un cicalino che è qui che serve per fare un beep beep per dare alcuni messaggi sonori e poi abbiamo 5 sensori a infrarossi questi sono molto comuni costano poco mi sembra li ho pagati un euro l'uno qualcosa del genere e funziona sono molto semplici li dovete proprio pensare come un interruttore che si attiva quando qualcosa un ostacolo si avvicina a questi due infrarossi quando l'ostacolo si avvicina si accende una lucina e l'infrarosso come dire invia alla scheda un segnale di o zero o uno ora non mi ricordo che qual è la chiusura e qual è l'apertura però semplicemente manda un messaggio on off quando c'è quando il campo è libero oppure quando c'è un ostacolo vicino sono analogici quindi significa che il loro range di copertura di distanza che possono coprire lo possiamo regolare manualmente da queste vitine che vedete qui con un piccolo cacciavite a stella come tutti gli infrarossi in particolare questi analogici dove decidiamo noi un po' il loro livello di sensibilità il loro livello di sensibilità e come dire risentono della distorsione di quando c'è tanta luce soprattutto luce solare ok quindi diciamo il robot funziona meglio negli ambienti chiusi non eccessivamente illuminati soprattutto dalla luce dalla luce solare ok o meglio non è che non funziona è che magari c'è da regolare nuovamente la sensibilità dei sensori ok finita la parte elettronica vi devo parlare dei comportamenti del robot quindi concretamente cosa fa prima vi faccio vedere un documento con delle grafiche e poi ovviamente vi mostrerò il robot in azione in un video eccoci veniamo ai comportamenti il robot diciamo è stato fatto per un progetto europeo l'anno scorso e doveva diventare una sorta di animale domestico una specie di tamagotchi fisico in grado di sviluppare nel giocatore quesiti attorno alla risposta del robot a determinate situazioni di gioco e generare idee di confronto con meccanismi noti ad esempio il comportamento di un vero cucciolo animale in determinate situazioni della vita quindi di fatto lui almeno come lo vedrete nel video poi ovviamente riprogrammabile è dotato di tre comportamenti di base un comportamento di caccia o di attacco un comportamento dove invece di essere cacciatore è preda quindi un comportamento di fuga e un comportamento di disinteresse che nel codice è chiamato space lover quindi diamante dello spazio semplicemente lui vaga dove trova uno spazio aperto abbastanza grande dove insomma i suoi sensori non rilevano ostacoli lui cerca di andare in quella direzione e cammina e vaga il comportamento di attacco quindi dove il robot si comporta come un cacciatore nel codice vedrete che è scritto hunter consiste nell'avvicinamento che appena lui rileva qualcosa con gli occhietti oppure con i sensori si orienta in quella direzione e cerca di seguire quella preda in quanto lui si comporta appunto come un cacciatore viceversa quando si comporta come una preda quando sente un qualcosa tende a fuggire a divincolarsi diciamo di base sta fermo ma se sente qualcosa tenderà a fuggire e ad allontanarsi da da quello stimolo che potrebbe essere appunto un cacciatore lui comportandosi da preda fugge viceversa nel disinteresse diciamo il robot di base non sta fermo si muove e semplicemente evita un qualcosa che si pone fra lui e la sua passeggiata disinteressata la cosa interessante è che il giocatore assiste e osserva con attenzione il comportamento del robot il robot avvisando con un suono decide autonomamente di cambiare comportamento ogni 5 secondi lo vedremo poi nel codice il giocatore in qualche modo può dare un rinforzo al comportamento che gradisce diciamo l'utente se vede che in quel momento il robot si sta comportando che ne so da cacciatore e vuole rinforzare quel comportamento preme il tasto che ha sul dorso il pulsante che ha sul dorso e questo questo rinforzo piano piano aumenterà la probabilità che quel comportamento di caccia si ripresenti perché all'inizio quando il robot viene acceso i tre comportamenti hanno la stessa probabilità di apparire di venire fuori diciamo in base a un meccanismo casuale partono dalla stessa probabilità un terzo un terzo un terzo rinforzandone uno con il premio diciamo della la ricompensa di premere un pulsante piano piano il robot ne farà prevalere ne farà prevalere un altro con un meccanismo in qualche modo di apprendimento con rinforzo la cosa interessante e lo vediamo poi più tardi nel codice è che ho inserito anche un meccanismo di oblio cioè magari io rinforzo rinforzo un comportamento dopo un po' non lo voglio più rinforzare quindi o semplicemente ne rinforzo gli altri due e quindi poi riporto le proporzioni diciamo le percentuali di probabilità in pareggio o posso anche semplicemente ignorare il robot e dopo un tot di cicli scatta un meccanismo di oblio dove poco a poco la percentuale più alta quindi del comportamento più che è stato più rinforzato inizia piano piano a decadere e quindi a essere dimenticato piano piano ciclo dopo ciclo ok questi sono i comportamenti ma andiamo adesso a vedere il video ok quindi cambiamo finestra e partiamo col video ok vediamo qui in azione proprio il comportamento space lover dove il robot di base si muove e diciamo va verso spazi aperti evitando gli ostacoli qui è il diventa preda e mostra il meccanismo di fuga vedete percepisce la minaccia della mia mano e cerca di vincolarsi di fatto lui starebbe fermo ma appena sente un pericolo che si avvicina reagisce e cerca di allontanarsi da quel pericolo ok ripeto i comportamenti vengono fuori in maniera casuale ogni 5 ogni 5 secondi questo è il comportamento di caccia vedete percepisce la preda e la segue poi ora è ritornato a fuga io ho dato un rinforzo al comportamento di caccia premendo qui premo nuovamente premo nuovamente e piano piano come vedete il comportamento di caccia diventa poi sempre più frequente questo non vuol dire che non compaiano poi casualmente gli altri comportamenti semplicemente le percentuali la probabilità si sposta a favore di caccia ok prima di mostrarvi il codice cerco di mostrarvi un po' il modello di programma questo è il modello preso dal libro appunto il primo che vi ho mostrato intelligenza artificiale 23 progetti per microcontrollori questo in particolare è proprio l'esempio nell'ultimo capitolo del penultimo dove si parla appunto della subsumption architecture cioè l'architettura a sussunzione altrimenti chiamata nell'altro libro o meglio architettura che si usa in quella che si chiama la che chiamano nell'altro libro robotica basata sui comportamenti behavior based robotics ok come funziona questa architettura che praticamente si creano vari moduli vari stati che chiamiamo behavior e questi possono essere arrangiati con vari livelli gerarchici ok la gerarchia va dal basso verso l'altro quindi abbiamo qui i sensori sulla sinistra abbiamo qui gli atti quindi nel caso del libro dove ovviamente non c'era come esempio un robottino esattamente uguale al mio c'era un po' diverso però comunque aveva i sensori oltrosuoni i whisker sensors sono i sensori a baffo che servono per sentire proprio fisicamente un ostacolo quando il baffo tocca una superficie insomma si attiva il segnale oppure i sensori infrarossi che ho usato anche io poi invece sulla destra ci sono gli attuatori ovvero il controllo dei motori e nel mezzo ci sono tutti i comportamenti come vedete anche qui comportamento di caccia andare per spazi aperti camminata casuale rilevamento di un ostacolo eccetera eccetera questi comportamenti hanno un ordine gerarchico che va dal basso verso l'alto che cosa vuol dire che il magari il robottino si sta muovendo vedete random walk casualmente sta girovagando casualmente ma quando scatta per esempio il comportamento di caccia che è quello più in alto di livello di competenza 2 rispetto al livello di competenza 1 questo comportamento cioè la S significa sopprime sia quello sotto di andare per spazi aperti e sopprime sia quello spazi aperti sia il comportamento di caccia sopprimono il random walk cioè hanno un livello di competenza e gerarchico più alto quindi lo sopprimono e prendono il sopravvento sul comportamento che vediamo del nostro robot stessa cosa avviene un processo di inibizione sui sensori cioè quando scatta il comportamento di caccia c'è un'inibizione proprio di quello che arriva dai sensori infrarossi cioè quando caccia lui il robottino se ne frega assolutamente di che cosa rilevano gli infrarossi entra in modalità caccia e diciamo non gli interessa più di tanto prendersi troppi troppi rischi di andare a sbattere e si affida solamente ai sensori a baffo per evitare per evitare diciamo collisioni troppo troppo pesanti ok il modello è basato sui livelli gerarchici appunto che permettono di arrangiare proprio vari comportamenti e questi comportamenti si possono vicendevolmente condizionare quindi uno può sopprimere l'altro due comportamenti che magari hanno lo stesso livello gerarchico possono funzionare in parallelo e bilanciarsi ok magari uno dice al robot di andare totalmente a sinistra l'altro dice di andare totalmente a destra avendo lo stesso livello gerarchico alla fine il robot va a dritto non va né a sinistra né a destra comunque vi consiglio di cercare se cercate anche su google subsumption architecture architettura sussunzione trovate anche diciamo la pubblicazione accademica originale di rodney brooks da cui è stata diciamo da cui poi il libro ha creato un po' un tutorial poi magari lo inserirò nei link tra le risorse di questo video ok adesso andiamo a vedere l'altra diciamo modello che ho utilizzato come ho detto all'inizio ho fatto un po' un mix fra questo il roulette wheel brain che è semplicemente diciamo una distribuzione dinamica delle come dire una distribuzione delle probabilità che è dinamica che può variare durante l'interazione con il robot come fa a variare come si fa a passare per esempio dal grafico a torta di sinistra dove a b e c hanno un terzo un terzo un terzo di probabilità a passare qui dove b e c quasi coprono il 50% delle probabilità con un meccanismo di rinforzo che è la tecnica un po' del reinforcement learning a cui poi ho aggiunto diciamo il meccanismo dell'oblio ok quindi un po' mescolando questi tre modelli ho fatto il codice del robot che ora vi mostro vi dico di già che a differenza di quello che vedete qui nonostante nel codice abbia previsto dei punti di ingresso per i segnali di soppressione e di inhibizione non ne ho fatto uso quindi nel codice c'è però non è stato utilizzato nel video che avete che avete visto perché di fatto i tre comportamenti space lover hunter e prey preda lavorano diciamo non è che uno prevale su quell'altro semplicemente casualmente ne sbuca fuori uno la prevalenza è solo data dalla probabilità non c'è un livello un livello gerarchico ve lo faccio vedere in queste altre immagini un attimo eccoci ripartiamo dal più facile che è il comportamento dove il robot si comporta come una preda quindi fugge e qui vedete che non ci sono appunto inibizioni e soppressioni semplicemente i sensori a infrarossi quindi quelli montati non sul frontale ma tutto intorno al robot come dire rilevano degli ostacoli e quando li rilevano agiscono sulla sul verso e sulla velocità del motore dei motori anzi e il sensore ultrasuoni quindi gli occhietti riescono anche a rilevare se l'oggetto è in movimento quindi se in qualche modo l'oggetto la distanza un po' cambia quindi l'oggetto si sta muovendo e anche loro si sovrappongono a quest'altra linea e anche loro agiscono sui motori senza inibizioni all'interno dei vari blocchi ok vi mostro l'altro modello dell'altro comportamento un attimo questo è il comportamento space lover quindi dove il robot va per spazi aperti vedete che qui ho inserito una linea di inibizione un po' per riprodurre quello che abbiamo visto nella scansione proprio del libro cioè che quando scatta il comportamento spazi aperti il robot se ne frega persino dei segnali che arrivano dai sensori a infrarossi se ne frega del rilevamento ostacoli ma come ho detto prima in realtà l'ho concepita nel progetto però questa linea di inibizione non l'ho usata nel video infatti avete visto che invece il robot anche se andava per spazi aperti quindi era in modalità space lover percepiva comunque gli ostacoli erano proprio i primi secondi del video vi mostro il terzo comportamento che è quello di vi mostro il terzo comportamento che è quello di caccia eccolo eccolo e in questo caso vedete qui c'è il comportamento appunto di cacciare oggetti in movimento rispetto a quello precedente c'è questa linea perché anche i sensori infrarossi quindi quelli che sono intorno al robot contribuiscono all'innesco di questo di questo comportamento ok quindi che cosa vuol dire che e qui in questo caso viene disattivata l'ostacolo cioè il rilevamento dell'ostacolo per il semplice motivo che quando il robot sente per esempio un qualcosa che si avvicina alla sua parte posteriore come si vedeva nel video dove ci sono montati tre sensori uno centrale due laterali tenderà invece di fuggire si gira in quella in quella direzione quindi non non lo percepisce come ostacolo non lo percepisce come ostacolo lo percepisce lo elabora come preda e quindi si gira in quella direzione ora per non confondervi quando prima vi ho detto che non ho usato meccanismi di inibizione e soppressione intendevo dire che non ho usato meccanismi di inibizione e soppressione fra i tre comportamenti quindi non è che il comportamento di caccia prevale su quello di preda oppure su quello di space lover diciamo che vanno tutte e tre partono con la stessa percentuale ciò che determina il prevalere di uno è l'interazione il rinforzo da parte dell'utente con il pulsante sul dorso del robot ma siamo arrivati alla parte finale e guardiamo il codice che ovviamente per un progetto così complesso è il codice testuale scritto in Arduino all'interno di Arduino IDE ecco il codice siamo all'interno di Arduino IDE eviterò ora di parlare proprio di tutte le funzioni che sono state create perché diventa troppo lungo comunque il codice ovviamente lo trovate nella sezione risorse quindi se lo volete poi scaricare per analizzarlo ci concentriamo soprattutto qui sulla sulla pagina principale dove c'è il loop che come sapete è la parte del programma che si ripete continuamente e che ovviamente ogni tanto in qualche rigo fa riferimento a una delle funzioni che sono state create ad hoc per questo programma ok allora per chi ha già seguito altri webinar o altri video dove ho parlato di Arduino o ho visto insomma le mie informazioni dal vivo saprà che tutta la prima parte del codice riguarda l'importazione di librerie in questo caso solamente due una per gestire i servomotori l'altra per gestire il sensore oltrasuoni questo insomma è una cosa che abbiamo già visto anche altre volte e poi c'è la dichiarazione di tutta una serie di variabili variabili che riguardano i sensori variabili che riguardano i servomotori e il cicalino variabili che riguardano i comportamenti eccetera eccetera a differenza di altri codici che magari vi ho mostrato in passato qui ho usato molto le variabili di tipo byte invece che le variabili di tipo intere un po' per un motivo abbastanza diciamo abbastanza inutile perché volevo cercare di risparmiare memoria ma fortunatamente insomma la memoria è stata usata solo al 26% quindi potevo tranquillamente usare anche delle variabili intere invece che byte perché le variabili byte prendono meno spazio in memoria ma in alcuni casi mi serviva proprio il byte come tipo di dato il byte è composto da 8 bit e quindi può essere utile o per esprimere un numero che va da 0 a 127 oppure può essere utile perché essendo espresso in bit mi permette di fare operazioni con la numerazione binaria e quindi di come dire passare delle informazioni proprio a livello di bit per esempio come in che stato è il bit il primo bit in che stato è il secondo bit in che stato è il quarto bit i bit si leggono da destra a sinistra e quindi questo mi poteva essere utile lo vedremo più avanti per questo tante volte ho usato il tipo di variabile byte invece che intero ok quindi qui ci sono tutte le nostre variabili poi come di consueta entriamo nel setup che è abbastanza semplice c'è l'apertura della porta seriale che ho usato semplicemente per durante la fase di programmazione per inviare alcuni messaggi che mi dicevano che servivano per il debug sulla porta seriale la touch dei servomotori che abbiamo visto che c'è anche insomma nella robotica con con eduino e basta interessante ora per esempio è questa funzione qui motor control dove vedete che ci sono dei parametri questa è una funzione che ho creato io i parametri sono 1 1 0 e che cosa ho messo nel commento ah per farlo partire diciamo in stop in stop dal punto di vista diciamo formale perché poi subito entra un entra in gioco un comportamento e se il comportamento è il comportamento space lover sapete l'avete già visto nel video che il robot si muove però di base dal punto di vista formale quando parte i motori dovrebbero essere in stop vediamo cosa significa questo questi parametri 1 1 0 rispetto vado all'interno della funzione motor control che ho creato io e vedo che 1 1 0 significa direzione del motore left di sinistra temporanea direzione del motore di destra temporanea che è on off semplicemente quindi avendo messo 0 lui va in in off e quindi i motori non non partono ok e quindi infatti vediamo che il questo è interessante che come funzionano i servomotori a 360 gradi rispetto a quelli 0 180 la funzione per farli muovere è la stessa my servo punto write e all'interno delle parentesi inseriamo l'angolo nei motori a 0 180 se metto 0 il motore assumerà andrà nella posizione angolo 0 se metto 90 andrà nella posizione angolo 90 in questo caso vedete che c'è una variabile start position che è questa qui start position uguale a 89 perché i servomotori stanno fermi quando partono quando si mette la posizione 90 gradi via via che ci si distanzia da 90 gradi o girano con maggiore velocità in un senso oppure nell'altro voi vi chiederete perché allora hai scritto 89 invece che 90 è una compensazione software nel senso che ingrandisco un po' nel senso che i motori durante il montaggio eccetera almeno questi che ho usato io possono perdere un po' di calibrazione che è anche regolabile manualmente sul corpo del motore stesso se è possibile se riusciamo a raggiungere un punto dove c'è un foro con una vite altrimenti ho fatto una compensazione software semplicemente mi sono accorto che a 90 fermi non stavano giravano lentamente e un po' giravano appena appena lentamente e ho cercato un altro punto di stop che era in 89 per entrambi ok quindi così funzionano i motori servomotori a 360 gradi 90 gradi è il punto di stop se scendo più mi allontano dai 90 gradi verso il basso più aumenta la velocità in un verso più mi allontano dai 90 gradi dall'altra parte stessa cosa più aumenta la velocità nell'altro verso ovviamente fino a un limite strutturale del robot ok non è che aumenta all'infinito la velocità quindi ritorniamo nella pagina principale rimettiamo lo zoom per bene un attimo eccoci quindi rivediamo nuovamente le variabili variabili per i sensori variabili per il per i servomotori e per il cicalino variabili che hanno a che fare con i comportamenti behavior poi entriamo nel setup ne abbiamo già parlato ed entriamo nel loop con che cosa parte il loop con queste tre funzioni dove di fatto faccio un po' al di là di prendere il valore che arriva dai vari sensori cioè gli infrarossi il pulsante e quello a ultrasuoni inizio a ragionare un po' sul filtraggio perché i dati in ingresso non sono mai pulitissimi quindi vanno un po' un po' filtrati e come vengono filtrati usando questa cosa qui ciclo generale di filtraggio di filtraggio a quattro cicli a quattro giri cioè semplicemente io prendo faccio prendo un campione di quello che arriva da un sensore prendo quattro campioni ok come facesse quattro volte il giro il programma se tutti e quattro i campionamenti sono diciamo coerenti sono lo stesso allora io come di per esempio c'è un ostacolo sul sensore infrarossi numero uno se questa cosa mi viene confermata per quattro volte consecutive ebbene allora c'è un ostacolo altrimenti vuol dire che è un piccolo errore e lo filtriamo via ok quindi praticamente l'ostacolo viene rilevato usando appunto un se viene rilevato per quattro cicli consecutivi del programma ok poi qui le cose si fanno un po' più complicate qui c'è un clock quindi che misura il tempo in assoluto che ogni mille millisecondi quindi ogni secondo fa un click con il cicalino ora non lo sentivate nel video perché ho sovrapposto la musica e ogni cinque secondi fa un click leggermente con una durata leggermente diversa vedete una durata moltiplicata per tre che significa che viene cambiato viene aggiornato il comportamento qui c'è il condizionale if che mi dice che se premo il pulsante quindi se il button state è cambiato quindi quando viene premuto diventa zero ed è diverso dal precedente button state e c'è anche in gioco la questione del reinforcement learning che ora commentarla rigo per rigo è abbastanza complesso però per dire questa è la condizione che praticamente dice se premi pulsante che succede intanto c'è una piccola melodia di conferma che viene suonata dal cicalino e se il comportamento che è stato scelto casualmente è per esempio il comportamento cacciatore hunter allora incrementami la probabilità di questo comportamento e ok se invece è il comportamento preda incrementami la probabilità di questo ok e stessa cosa qua ok vedete che c'è anche le probabilità dell'oblio ora è un pochino complesso da spiegarvi però questo per dire che ogni volta che si contribuisce al si contribuisce diciamo alla premendo il pulsante viene aumentato la probabilità che quel che quel comportamento venga venga fuori questo hold button state button state è una cosa che serve per l'antirimbalzo del pulsante è uno dei tutorial più più classici che si fanno sempre con arduino tant'è che lo trovate anche negli esempi dello stesso arduino IDE vedete ogni 5 secondi il robot sceglie un nuovo behavior un nuovo comportamento quindi quando il clock supera i 5 secondi al di là che poi si riazzera che cosa fa? verifica che la soglia di attivazione dell'oblio che in questo caso stava messo uguale a 2 come soglia verifica se questa soglia è stata superata se è stata superata che cosa significa? vuol dire che un comportamento magari che era stato rinforzato che per due volte viene fuori e non viene ulteriormente rinforzato diciamo attiva una riduzione della sua probabilità ok vedete probabilità meno meno vuol dire che gli toglie un'unità a quella probabilità quindi qui si vede in azione appunto il meccanismo dell'oblio che scatta da solo semplicemente perché l'utente non rinforza ulteriormente il comportamento il comportamento prevalente questa è la parte dove viene tirato il dado dice è dado tirato il dado che sceglie tra tre comportamenti quindi se esce questo qui il primo viene fuori hunter altrimenti se esce il secondo numero viene fuori preda e se viene fuori il terzo numero viene fuori space lover ok queste sono tutte poi istruzioni che hanno a che fare vedete con la chiamata in causa di pezzi di codice che sono poi dentro dentro le funzioni e il tutto finisce ovviamente dopo che è stato scelto il comportamento sono state in qualche modo memorizzate i nuovi valori delle variabili come la probabilità che esca fuori un comportamento oppure la probabilità dell'oblio eccetera 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 alla fine di tutto cosa c'è? c'è il movimento del motore ovviamente e infatti c'è la funzione motor control che è quella che abbiamo visto prima che dove proprio vado a leggere la variabile motor state che è una variabile di tipo byte la vado proprio a leggere a livello di bit ok quindi se il bit in questo caso è il bit 1 il bit 0 e il bit 2 ok e poi alla fine di tutto c'è il classico delay che come in quasi tutti i tutorial se guardate l'esempio famoso che c'è nella libreria interna a arduino che è se non sbaglio dov'è nel digital no nell'analog ecco qua nello smoothing questo è un esempio che di base viene un po' usato per spiegare un po' il filtraggio dei dati il delay c'è sempre alla fine delay un po' per la stabilità ok che a volte si usa anche il filtraggio temporale cioè si fa girare il codice un pochino più lentamente per evitare che ecceda nel catturare magari dei segnali velocissimi che però sono semplicemente disturbo che è il rumore di disturbo che arriva dai sensori ok benissimo io come ho detto condividerò adesso online nella sezione risorse di questo corso i file che i file che abbiamo visto in particolare il in particolare il codice poi nei prossimi giorni nelle prossime settimane aggiungeremo aggiungerò anche la lista dei materiali con i link ad amazon per acquistarli se volete cimentarvi in questo chiaramente rimango a disposizione sempre via mail via messenger via quello che volete insomma riuscite sempre a raggiungerci e ovviamente caricherò a breve le domande per chi di voi vorrà fare insomma richiedere poi l'attestato per arrivare poi alla fine al badge della robotica per la secondaria vi saluto e ci sentiamo e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao ciao